...sulla sua scrittura, perché questo libro La Persistenza della Memoria parte da un titolo che ci rimanda anche a un quadro di Dalì, di Salvador Dalì, forse tutti voi avete presente gli orologi che si fondono attraverso il tempo. Ecco, sempre pensando ad Alessandro sono andata a rivedermi questo quadro, anche le simbologie che ci sono dietro e Dalì raccontava che aveva dipinto questo quadro una sera che aveva l'istomaco, che c'era un formaggio che si fondeva vedeva l'elasticità di questo formaggio che gli faceva pensare che anche il tempo si allunga o si accorcia a seconda del nostro stato d'anno. Questo libro di Alessandro è un viaggio, come giustamente diceva Domi Prima, un viaggio che parte dallo scavo interiore. Perché? Perché la sua poesia non è solo poesia fine a se stessa, è poesia profondamente onesta dal punto di vista intellettuale perché parla di sé, ma non parla di sé per autodeferenzialità perché tutti gli scrittori, tutti gli artisti partono da se stessi però è un se stesso che poi si apre verso l'altro, l'altro diventa specchio anche in questa ricerca quindi Alessandro, e dopo sentirete i testi che leggerà Martina e comprenderete meglio anche la sua modalità di scrittura va sempre incontro all'altro, l'altro lo rivela a se stesso quindi questo viaggio nella poesia e nella scrittura è anche l'incontro con l'altro e questo mette in movimento tantissime cose, perché solo attraverso lo scambio, attraverso il dialogo possiamo sperare di ottenere qualcosa di significativo altrimenti siamo persone che parlano, monologano con se stessi e sono tutte abiticchiate al loro narcisismo invece l'altro ci rivela e quello che è bello anche di questo libro è che è scapulito anche dalla storia di un ragazzo di un adolescente afgano che mi ha finito sotto le ruote di un tir alla periferia di Mestre, in un porto di Campalto e in questo, quando l'hanno trovato morto, aveva con sé un piccolo libro un piccolo block notice in cui scriveva le sue poesie bellissime, tra l'altro, come lui parlava prima della sua depressione di quanto questo aveva anche condizionato la sua vita lui ha preso in consegna i suoi demoni e ha cominciato a valorarci ecco, io trovo in questo un grande coraggio anche perché non sempre le persone sono oneste con se stesse davanti agli altri invece lui parte proprio dalla sua frantumazione dalla sua lacerazione, dal suo disagio e con questo fango scuro crea una cosa bella ecco, quello che fa Alessandro è un lavoro che dovremmo forse fare tutti cioè partire dallo scacco, dalla sofferenza per fare un punto di riscatto quindi la sua poesia riesce a dare bellezza e respiro anche a cose tristi come la morte per acqua di molti profughi e molte altre cose perché solo prevenendo in consegna anche gli aspetti più dolorosi dell'esistenza possiamo venirne fuori non facendo affinità di non vedere niente ecco, Alessandro ha questo grande dono dell'empatia di saper vibrare con l'altro perché uno pensa magari che corazzandosi contro il mondo si possa soffrire di meno e invece la corazza ci rende sempre più vulnerabili in realtà solo liberandosi delle difese e cercando di portare il peso anche del dolore a lui si può superare il proprio ecco, io credo che Alessandro abbia fatto questo lavoro e che possiamo imparare qualcosina tutti noi da lui insomma, di affrontare la nostra discesa agli inferi come hanno fatto tanti altri personaggi della storia della letteratura da Orfero, Dante, Ulisse, Enea però nella vita di ogni uomo c'è questa discesa agli inferi e finché non si scende, finché non si scava non siamo liberi ecco, io credo che questo sia il punto di partenza e di arrivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti